Quello che sta accadendo a Gaza è profondamente inquietante ed immorale e deve essere fermato. Mikhail, 29 anni, convinto critico del governo Netanyahu, ha visto la guerra a Gaza da una base militare sul confine nelle vesti di ufficiale operativo. Era stato addestrato come cecchino, ma dopo l'esperienza negli anni passati nei territori palestinesi ha chiesto di cambiare mansione. Il program di Hamas del 7 ottobre lo ha convinto a rientrare nell'esercito come ufficiale riservista per difendere il suo paese e fare liberare gli ostaggi. Dopo la liberazione degli ostaggi nel novembre scorso pensavo che li avremmo tirati fuori tutti, avremmo fatto un cessato il fuoco più lungo e saremmo arrivati ad un accordo con Hamas. Ma col passare dei giorni mi sono reso conto che il governo non era interessato a questo, anzi, sembrava quasi che volesse tenere dentro alcuni ostaggi per poter continuare la guerra. Quando sei in servizio non hai molto tempo per pensare o informarti bene. Il momento di non ritorno per me è stata l'uccisione per errore di tre ostaggi israeliani. Avevo finito da pochi giorni i primi tre mesi nell'esercito, sventolavano la bandiera bianca, parlavano ebraico, eppure gli hanno sparato addosso, inaccettabile, contro ogni regola di ingaggio. Lo abbiamo saputo perché erano ostaggi. Quante altre volte è successo coi palestinesi? Nessun ufficiale è stato punito. Lì ho deciso che mi sarei rifiutato di servire un'altra volta. Da qualche mese Michael è formalmente sospeso all'esercito da quando ha firmato con altri 150 riservisti una lettera indirizzata al premier Netanyahu. La priorità di questa guerra non è liberare gli ostaggi hanno scritto o arrivate a un accordo o ci rifiutiamo di servire ancora nell'esercito. Mi hanno chiamato per convincermi a ritirare la mia firma. Rifiutarsi di riarruolarsi è un tabù in Israele, ma io non mi sento in colpa. È un modo per me di ripagare o di correggere le responsabilità che ho. Ma la vera responsabilità è nella testa del serpente. I militari eseguono ordini, non decidono la politica. In ogni caso un comandante dovrebbe intervenire quando si violano le regole di ingaggio. Voltare la testa dall'altra parte e non punire significa incoraggiare altri a simili violazioni.